E' un separietto che definisco comico, divertente o meglio ubrioso quello che di recente, diciamo così, si è visto. Ad è incredibile infatti perché è una scenetta in cui si vede la bella Jennifer Lopez e il buono Ben Affleck che vanno a pulire le poltrone di un cinema dopo aver visto il film intitolato Dune o Dune, che si voglia. Ma il video in cui puliscono pensate che è diventato letteralmente virale sul web. Sia Ben che i Jennifer pensate che si erano recati al cinema per vedere questa pellicola, questo lungo metraggio e si vedono loro intenti a pulire le poltrone. Forse perché erano probabilmente sporche, altrimenti non le avrebbero pulite. Sta di fatto che fa un certo effetto vedere due star di Hollywood come loro che si mettono letteralmente a pulire le poltrone di un cinema. Va bene? Incredibile, ma vero, ripeto, di nuovo. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondi per l'ascolto di questo video di oggi, carissimi utenti di YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Naranò Iariano, solo se vi va, non vi obbligo, commentate. Ci vediamo al prossimo video, una buona sera.